Continua l'impegno del Consiglio regionale a favore degli abruzzesi che risiedono nei comuni montani. Si tratta di un nuovo intervento che ridurrà le spese di viaggio per i pendolari che si muovono nelle aree interne dell'Abruzzo per andare a scuola o all'università. I ragazzi dagli 11 ai 26 anni, che vivono nei 129 comuni inclusi nel provvedimento, potranno infatti godere di uno sconto del 10% sull'abbonamento dell'autobus. Sconto che sarà applicato direttamente dalle biglietterie del trasporto pubblico locale dopo aver accertato l'età del richiedente, senza ulteriori richieste o istanze. Nel biegno 2018-2019 sono previsti 300.000 euro a copertura delle agevolazioni. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo dell'Emicigo dell'Aquila dal Presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio e dal suo vice Lucrezio Paolini. Presenti anche il Sindaco di Penne Mario Semproni e gli assessori del Comune di Pescasserroli a Tiglio Pistilli e di Tagliacozzo Roberto Giovagnorio. Sì, 129 comuni, gli studenti verranno lo sconto del 10%, direttamente applicato dalle società che gestiscono il trasporto pubblico locale. Lo studente si presenterà lì per fare l'abbonamento e si verrà subito la riduzione del 10%. È una misura importante, aiuta soprattutto i cittadini a non abbandonare i piccoli centri del nostro Abruzzo montano, ma soprattutto un Abruzzo che è conosciuto nel mondo non tanto per il resto, ma per le bellezze ambientali, la montagna e questi piccoli centri incastonati. È una seconda misura che abbiamo messo in atto, ce ne sarà qualcun'altra ancora sulla quale stiamo lavorando. Io immagino che questa possa essere la legge sulla montagna se noi continuiamo su misure che possano portare a una riduzione del costo di vita in questi luoghi di circa il 20-25%.